Amici miei, una mattina mi sono svegliata e non c'eravate più. Mi sono chiesta, dov'è il suono degli scarponi che riecheggiano nel sottobosco? Gli sciatori e gli scalatori che sfidano la gravità sui miei pendii? Gli amici che ridono insieme seduti in seggiovia? E ho capito che... State aspettando? Beh, mancate anche a me. Ma come sempre, sono qui. Presto o tardi ci ritroveremo. Non temete. E staremo ancora insieme. Vi aspetto anch'io. Con affetto. La montagna. Grazie. Grazie a tutti.